La Sicilia sta affondando sotto il peso di sprechi, clientele e disorganizzazione. Per questo sabato si scenderà in piazza. Dopo la spaccatura tra i sindacati confederali, con CGL e Will, che hanno manifestato lo scorso venerdì, adesso è la volta della CISL, che ha organizzato per sabato una grande mobilitazione regionale che punta l'accento sulla necessità di coniugare sostegno alla povertà, crescita e risanamento del sistema economico regionale. Legheremo con 6.000-7.000 circa lavoratori pensionati e disoccupati della CISL con il palazzo del governo regionale, con il palazzo del Parlamento regionale. Se vogliamo evitare il tracollo sociale, già siamo in emergenza e disperazione, bisogna che si faccia un'operazione in 3-4 anni di spostare tante risorse, tanti soldi, dagli sprechi che ci sono in tutta l'area dell'amministrazione, per riqualificare e strutturare una spesa. Tra le richieste che verranno avanzate a Parlamento regionale, governo e partiti, il coraggio di sancire una rottura con il passato, capace di evitare il fallimento economico, sociale e amministrativo della Sicilia, con nuove politiche per il lavoro, il sociale e gli enti locali. Cominciare a prevedere una serie di meccanismi strutturali, a cominciare dalla sanità, politiche sociali, a tutta l'area dell'amministrazione, per vedere come recuperare risparmi e risorse, meccanismi automatici di controllo e di riduzione.